E che possiamo fare? Le criptovalute sono scese. Ieri alle 22 è successa una cosa gravissima per tutti gli investitori che sono andati long. Forse questo dovrebbe essere causato dall'Halving o forse anche... Ah già è successo che ho sentito la notizia dell'Israele con l'Iran quindi ecco perché Bitcoin è sceso. Quindi chi è andato long ha perso un sacco di soldi. Quindi ragazzi il prezzo è sceso tutte le criptovalute sono scese tutte grazie ai droni che sono andati nell'Israele. Grazie mille ci hai fatto andare short poteva andare short io pensavo che i prezzi dovevano aumentare invece i prezzi sono diminuiti grazie alla colpa della guerra vabbè fa niente peccato ma non credo sia colpa di Putin ma non vedo l'ora che i prezzi si rimetteranno a posto ma si è persi i soldi è colpa dell'enorme correzione che c'è stata oltre il 30 per cento di correzione anzi di crash crash criptografico quindi ragazzi aspetteremo i prossimi giorni e vedremo cosa accadrà ci vediamo in un prossimo video e poi vi farò vedere se ho vinto o perso l'opzione sicuramente l'avrò persa ma se l'ho vinto vi aggiungo qualcosa di positivo incrociamo le dita ragazzi grazie